le carni in tira teneva tutte con sparse di petecchia in tira e allora disse questo ha da esser pesto che sussurro di infezione è questo? ciò che pere te sonora scorreggia è che se lo lavano di carie percate un vacinato che allucca, allucondaggio ecco questo presunto contagio è causa o effetto? è causa effetto assieme e che alla mattina ti alzi con un bozzo a mezzodì te sai della flere e a ora di cena si dà un muro questo si vero poteste essere morbo ma prima di farne il vicere avvertito seguiamo di Aristotele il verbo che una cosa è il distinto e l'altro è il definito ma avevi visto che parole te devi in serbo? guai dottor, veni di parlarmi non farbito che qua la gente d'emergenza ne capì che è morta di morire certo certo, dunque allora una cosa è peste e l'altra è il seme e non poteste esserci di peste e contagione senza che la causa sia l'effetto insieme valet che del seme ha da esserci introduzione che boricera che se tu uno seme lo puoi in da una testa dopo mille fiori fioriranno le peste e tutto lo corpo rinde fuori e tale introduzione avviene tramite solo l'infezione di robe infette e contagiati i corpi e...